Wow ragazzi è arrivato, è arrivato il mio pacco X Cosa ci sarà all'interno? Che io prontamente schiaffeggio Bene questo lo vedremo nel prossimo video Intanto noi lo prendiamo E lo portiamo inside the house Questo è il mio computer Questo è il mio pacco Che cosa conterrà il pacco ragazzi? Non vedo l'ora di aprirlo Per farvi la mia recensione